Buone notizie per la lotta allo spreco alimentare. In materia di donazione degli alimenti invenduti si va verso una semplificazione normativa che dovrebbe e potrebbe con la collaborazione fattiva del governo diventare operativa entro l'anno. Ad annunciarlo in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare è Andrea Segre, coordinatore del comitato tecnico scientifico attivato dal Ministero dell'Ambiente per la prevenzione dei rifiuti e dello spreco di cibo. Presidente di Last Minute Market, il piano di azione arriva dalla consulta del piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Si individuano tutte le criticità lungo la filiera scoprendo con molte delle norme in materia igienico-sanitaria le procedure e fiscali e di fatto che rendano difficile se non impossibile procedere alla donazione delle eccedenze e dei prodotti alimentari invenduti. Ora serve l'attività di un tavolo interministeriale con tutte le parti interessate nel processo e gli enti caritativi per favorire un'armonizzazione del quadro di riferimento che disciplina attualmente il settore. E l'anno dell'Expo è anche l'occasione per chiudere la partita. In arrivo anche un diario domestico dello spreco alimentare, iniziativa che coinvolgerà un campione rappresentativo di famiglie impegnato nel monitoraggio scientifico del cibo sprecato. A lanciarle Last Minute Market, la campagna europea, un anno contro lo spreco insieme con l'Università di Bologna. Le famiglie coinvolte conteggeranno il loro spreco effettivo e questo consentirà di capire quali prodotti alimentari sono maggiore oggetto di spreco e perché. Il diario registra anche il cibo che viene smaltito attraverso gli scarichi, latte, succhi di frutta, caffè avanzato che si getta nel lavandino o dato da mangiare agli animali domestici. In Italia il valore dello spreco alimentare domestico sarebbe di 8,1 miliardi e secondo i dati della FAO questa cifra arriva addirittura a 13 miliardi. Una situazione paradossale in tempi di crisi come quello attuale se si pensa che la cattiva gestione costa ad ogni italiano 500 euro annuali di alimenti non consumati.